Viviamo in un mondo che è attento solo alla superficie. Dimentica che la superficie è solo il contenitore, dentro c'è la carne viva e pulsante, i sogni, desideri, paura. E sensibilità. Ed è di questo che bisogna aver cura. Dei sogni, dei desideri, delle paure e della sensibilità propria. E degli altri. Grazie a tutti. Grazie a tutti.